il Centro Medico Sant'Agostino, ed ho un grandissimo piacere di avere con me il CIO del Centro Medico Sant'Agostino, Riccardo Altura. Buongiorno a tutti, grazie ad AWS per avermi dato l'opportunità di essere su questo bellissimo palco a raccontarvi qualcosa di Centro Medico Sant'Agostino, che cosa stiamo facendo, qual è la nostra mission e come l'utilizzo di AWS ci sta aiutando a raggiungere questa mission. Il Centro Medico Sant'Agostino ha sempre cercato di portare una sanità di qualità, efficiente, a dei prezzi accessibili. Le nostre visite ambulatoriali costano 60 euro come prime visite ed è un pricing che abbiamo dal 2009, da quando abbiamo iniziato le attività. La scelta di business ha dato i suoi risultati, infatti in questi dieci anni abbiamo curato oltre 340.000 pazienti. Per poterlo fare abbiamo un team di oltre 800 medici e specialisti che viene gestito da più di 180 dipendenti. Le visite cerchiamo di erogarli entro tre giorni dal momento in cui vengono richieste, anche grazie al fatto che abbiamo 16 poliambulatori distribuiti sul territorio. I nostri poliambulatori sono principalmente nell'area milanese e intorno a Milano. Abbiamo aperto pochi giorni fa un ambulatorio a Rho presso S. Lunga. Ne apriremo un altro tra alcune settimane sempre presso S. Lunga a Monza. In più abbiamo sedi a Bologna, Brescia. E abbiamo il camper Sant'Agostino. Una sede mobile che serve per fare dei check-up, degli screening, dei controlli e fare un po' di promozione. La particolarità è che ovunque vada un nostro paziente troverà sempre gli stessi sistemi informativi, le stesse informazioni, perché grazie alla centralità del cloud abbiamo centralizzato l'infrastruttura. Quindi un medico che fa un referto nella sede di Bologna fa sì che un altro medico possa vedere quel referto per quel paziente anche in una delle sedi di Milano. Però Sant'Agostino non è soltanto territoriale o come livello di pricing, ma anche l'esperienza utente è molto particolare. Abbiamo cercato di costruirla unica e che fosse un punto di forza per i nostri pazienti. In particolare è un'esperienza automatizzata. Il paziente online può raccogliere informazioni e prenotare le visite. Sempre tramite sistemi automatici può accedere a sistemi di accettazione nel momento in cui entra in ambulatorio, fare pagamenti automatizzati tramite il nostro CRM o con dei totem apposta. Il medico compila la cartella clinica online. Questo permette di caricare il referto del paziente subito sul suo dossier sanitario. Questo permette poi al paziente di tornare a casa e trovare all'interno della sua area riservata di app le fatture, i referti, di avere sempre i dati sanitari con sé per poterli condividere con altri erogatori sanitari alla necessità. Però per arrivare a questo ci siamo trovati ad affrontare una sfida. Dobbiamo tornare nel 2014. Avevamo già in testa una sanità orientata alla tecnologia, orientata ai dati, orientata a un'esperienza utente vincente. Ma allo stesso tempo avevamo delle condizioni di cui dovevamo tenere conto. L'ufficio IT nel 2014 era composto da solo due persone. C'era comunque una crescita che già stava andando avanti di per sé e noi trattavamo e trattiamo ancora dati sanitari, dati particolarmente sensibili. Quindi la scelta che abbiamo fatto è stata quella di passare a un nuovo software gestionale che fosse completo, efficiente e allo stesso tempo dovevamo installarlo su un'infrastruttura allo stesso tempo efficiente e scalabile. Inizia così il nostro viaggio con AWS il 1 gennaio 2015 con Sapana su AWS. Il primo anno lo abbiamo dedicato all'inizio delle attività, fatturazione, seguire tutti i nostri colleghi nelle loro aree. Il 2016 abbiamo completato la migrazione dei sistemi sanitari, portando i sistemi di odontoiatria su AWS e la cartella clinica. Il 2017 lo abbiamo dedicato alla governance e all'ottimizzazione dei costi. La governance in particolare abbiamo inserito cinque nuovi tools per il controllo della nostra parte IT, sia fisica che in cloud. Sulla parte di costi siamo riusciti a ridurre del 12% il costo tecnologico che noi sostenevamo su ogni singola visita. L'anno scorso, il 2018, l'abbiamo dedicato a fare R&D su alcuni prodotti che AWS ci ha messo a disposizione e abbiamo lavorato per la compliance con il GDPR. I benefici che abbiamo ottenuto in questi anni sono molteplici. Ce n'è uno che non è facilmente raccontabile con un numero, quanto più con una sensazione. La sensazione è che qualunque necessità abbiamo avuto per il mondo IT, AWS aveva un prodotto che faceva il caso nostro, che ci aiutava a risolvere quella specifica esigenza. La velocità che ci ha permesso di risparmiare molto tempo, aggiornare i sistemi di odontoiatria, per esempio, è diventato 12 volte più veloce. Ma, per esempio, anche su SAP, a fine ottobre abbiamo fatto un upgrade che comportava anche una migrazione di server fisico. C'è stato un lavoro propedeutico che non ha intaccato per nulla le attività produttive e poi il lavoro fisico sulle macchine di produzione è durato poco meno di due ore, non andando a bloccare per nulla la nostra operatività. Il fantastico team con cui lavoro nell'area IT ha un'età media di 26 anni, un team molto giovane, ma che grazie ad AWS e alla modalità pay-per-use può imparare, testare, fare delle prove, capire come funzionano le cose prima di rilasciarle. E allo stesso tempo abbiamo avuto un'efficienza e un'affidabilità che è stata per cinque anni praticamente del 100%. Anche il fatturato, come potete vedere dalla slide, nel 2014, l'ultimo anno senza il cloud, era di 8 milioni. Siamo arrivati al 2018 a 31 milioni, con una crescita che quindi è continuata e che ha certificato che le scelte tecnologiche prese ci hanno dato ragione, permettendoci sia una crescita verticale nel numero di volumi che abbiamo affrontato, l'aumento dei pazienti, sia una crescita orizzontale. Ci siamo aperti a nuove aree di business. Adesso, ad esempio, abbiamo aperto la vendita di occhiali, di audioprotesi. Ma il nostro futuro con AWS è ancora da scrivere su tanti fronti. Nel 2019 sono già previsti i rilasci di una serie di tool istituzionali per pazienti, per i medici, che si baseranno su microservizi di AWS. Siamo già lavorando con Amazon Healthcare per inserire all'interno delle nostre funzioni Alexa per aiutare la prenotazione dei pazienti, allo stesso tempo per inserire altri prodotti che il team Healthcare mette a disposizione per gli erogatori sanitari. Inoltre, l'apertura della regione italiana ci permetterà di affrontare nuove opportunità ed efficientare alcuni aspetti del nostro business. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione, augurarvi un buon proseguimento di AWS Summit e salute. Grazie mille, fantastico. Grazie. Grazie. Bene.